baschettari impenitenti o semplici nuovi appassionati benvenuti alla prima di quattro puntate speciali di in the paint in collaborazione con quello che faccio io personalmente con un abito al ferro vi porto il power ranking di LBA in quattro puntate in modo da farlo approfondito è un power ranking ve lo spiego prima che partiate con gli insulti verso il sottoscritto che sarebbero anche giustificati però almeno ascoltate che cosa c'ho da dire prima è un power ranking che non porterà posizioni ma valutazioni in stelle una un e mezzo insomma quanto più fedele possibile a quella che è la percezione che ho sviluppato della squadra dopo il mercato fa non mettere opposizioni perché poi sappiamo già come sono le critiche perché mi è messo fuori dai playoff e perché mi è messo quinto e non quarto e perché mi è messo ottavo e non settimo ragazzi sono polemiche sterri ce le evitiamo e almeno stiamo sulla parte migliore ovvero un power ranking approfondito un power ranking dove vi spiegherò quali sono le cose migliori che ho trovato le cose che mi lasciano qualche dubbio e poi un giocatore che è una certezza che sarà una certezza a mio modo di vedere è un altro giocatore da seguire perché può fare più di quanto ci si aspetta almeno all'inizio o è sconosciuto e può sorprendere tutti quindi fatte le dovute spiegazioni non posso che dirvi cominciamo tre stelle e mezzo per la dinamo sassari che ha rivoluzionato il roster a tempo di record confermando i soli cappelletti e benjus tempo di record per prepararsi al premiare il basketball champions league dove lo scoglio più ostico è rappresentato dal mora bancandorra dei vari tra gli altri shannon evans e kyle curic appena arrivati è una dinamo che ha tante cose positive good vibes l'abbiamo voluti chiamare continuità tecnica in panchina importante davanti a una rivoluzione del roster la conoscenza pregressa è collaudata tra justin bibbins e miralema lidovic la rotazione tra lidovic e renfro con diverse caratteristiche e il mix tra esperti e rookies del campionato le incognite sono rappresentate innanzitutto alle condizioni di benjus quale sarà il benjus che vedremo dopo l'infortunio manca anche un cambio di ruolo per lui l'impatto con la lba di veronesi e vincini è un'altra incognita e poi c'è il peso della preparazione anticipata che già altre squadre hanno pagato esempio treviso e brindisi proprio per questo motivo la certezza è alessandro cappelletti che è cresciuto tantissimo nella scorsa stagione dopo essersi già fermato come giocatore da serie a occhio invece alla fisicità e alle capacità difensive e offensive di brian fox 4 invece le stelle per la prima bertram tortona totalmente di walter de raffaele anche se i cambi nel roster non sono stati così grandi come ci sarebbe aspettato è una bertram che conferma buona parte del proprio roster con cambi mirati e andiamo a vedere quelle che sono le good vibes per noi innanzitutto allargamento del parco italiani è un parco italiani profondo e pieno di giocatori che possono stare in campo mirate le conferme anche nel parco stranieri anche di un giocatore in prestito come kamagate è stata recuperata perimetralità anche nei lunghi e i giocatori nuovi che arrivano hanno mentalità vincente le incognite ce ne sono principalmente due la gestione del doppio impegno con la formula 5 più 5 nonostante la profondità del parco italiani e il fatto che manchi un giocatore capace di cambiare il ritmo in camina di regia è forse il difetto annuoso delle squadre dei corsi di raffaele il ritmo compassato la certezza è baldasso grande finale di stagione grandi playoff per lui occhio invece all'arrivo di justin gorham un vincente fresco campione di lituania con il letuvos ritas che può portare tanta qualità che mancava dai tempi di mike dome da innamorato del loro progetto tecnico sarei portato a dare 5 stelle alla dovrebbe energia trentino bisogna essere obiettivi se ne danno 3 e mezzo per paolo galbiati e la sua linea di giovani dei ragazzi terribili è una dolomita energia che ha tante cose positive che noi adesso andiamo a vedere con le nostre good vibes fiducia proprio a galbiati alla sua linea verde gli stranieri firmati jordan ford e anthony lamb con esperienze nba e giurda zucauskas giocatore veterano dell'europa con tanta concretezza e sostanza conferma i minuti importanti per ellis e niang e investimenti sul futuro come patrick kassan e denis badalao ci sono però delle incognite innanzitutto la gestione del doppio impegno con l'euro cup che è molto invasivo l'apporto che potrà dare mai scale si spera che non sia un altro stefens e poi la continuità di rendimento bisogna evitare la rottura prolungata come c'è stata a cavallo della scorsa coppa italia la certezza per quanto riguarda la dolomita energia sarà un nuovo giocatore che è andrea pecchia che già ha lavorato con paolo galbiati e potrebbe essere un titolare importante nella sua prima stagione con le coppe attenzione invece a sali uniang finale stagione pletorico che ha portato alla sua inclusione nella long list di pozzecco per il preolimpico i tifosi storceranno il naso ma all'olimpia ha dato quattro stelle e mezzo e non cinque il motivo ve lo dico prima che mi diate tutti gli insulti che legittimamente pensate è che è vero che sono stati risolti alcuni problemi ma resta qualche questione sul tavolo di ettore messina andiamole a vedere insieme così almeno se mi insultate avrete il motivo good vibes parco lunghi risistemato milano finalmente ha un pacchetto di pivot di centri veri roster profondo per la doppia competizione e poi sono state eliminate delle situazioni dei giocatori che si pestavano i piedi la più chiacchierata meli mirotic andiamo invece a vedere però quali sono anche le incontri le questioni risolte perché manca un play vero né dimitrievic né bolmaro nascono playmaker c'è un po meno pericolosità sul perimetro perché mancano pivot col tiro dalla distanza che prima c'erano e poi c'è il peso della dio di micmelli e di kyle hines soprattutto per le gerarchie dello sfogliatoio che andranno ricostruite la certezza è nicola mirotic che si è preso tecnicamente olimpia milano dopo i 47 di valutazione in gara 4 e non solo occhio invece a los mandioppo che può essere alla stagione della propria consacrazione lui che sognia tanto a sita fa savaneo ed è tutto cari amici con questa prima tranche abbiamo analizzato quello che sarà potenzialmente il campionato il valore di sassari tortona trento e milano ammetto come detto nel video di essere innamorato del progetto tecnico dell'autonomia energia e spero che piaccia anche a voi quest'idea di dare tanto spazio ai giovani un progetto che è capitanato non avevo il tempo di dirlo con le grafiche da marco crespi che a capo dell'academy dopo tanti anni sul panchile importanti del nostro basket vi saluto dandovi appuntamento alla prossima puntata dove analizzeremo pistoia brescia scafati e napoli come sempre su qui come sempre sul park and in the paint ciao a tutti ciao ciao ciao